Violento incidente lunedì sera a Torre del Greco, proprio dietro di me lungo via De Nicola, la strada che sale fin verso il Vesuvio, due auto si sono scontrate coinvolgendo anche una moto, grave il conducente della moto, un ragazzo di soli 30 anni. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente, i carabinieri stanno ancora svolgendo le dovute indagini per capire le varie responsabilità e le varie inadempienze. Quello che è certo è che le due auto si sono scontrate violentemente all'altezza del Sakura, nella strada appunto dietro di me, coinvolgendo quindi il motociclista che è atterrato sull'asfalto. Questo però fa immergere le criticità dell'intera zona alta di Torre del Greco, soprattutto per quanto riguarda questo incrocio, che è da sempre un luogo altamente pericoloso per la circolazione. In particolare alla mia destra c'è via Benedetto Cozzolino, che ben sappiamo che è una strada già pericolosa ai suoi, per l'alta percorribilità, soprattutto per la velocità lungo tutta la strada, che poi converge in questo incrocio con una scarsa visibilità. Sappiamo che salendo per via De Nicola è ben difficile vedere chi si sta immettendo dalla Benedetto Cozzolino e chi si sta immettendo invece da via Tironi, che è qui sulla sinistra. Alta criticità è la salita verso il Vesuvio. Anche qui, senza controlli, senza ulteriori modi per arginare, gli automobilisti tendono ad andare a fin troppa velocità, finendo poi per coinvolgersi in questi incidenti con veicoli che si mettono dalle varie traverse, specialmente quella più sopra e qui. Mancano dei dissuasori, mancano delle talpe segnaletiche, manca una qualunque forma di segnalazione volta a rallentare chi sta circolando o comunque a rendere maggiore la visibilità ed evitare i conseguenti pericoli. Oltretutto si aggiunge la pericolosità dello stesso manto stradale. In molti tratti il manto appare dissestato, più volte riabilitato tramite dei lavori stradali, che però sembrano mettere soltanto una pezza. Anche qui c'erano numerose fosse, addirittura l'asfalto era collassato, finendo molto più in basso rispetto alla carreggiata, e è stato ricoverto con ghiaia o materiale di facile rimozione. Infatti dopo poche settimane dai lavori appare ancora così dissestato. Serve quindi un intervento, come abbiamo detto, di segnaletica maggiore e soprattutto di controlli serrati per impedire che i comportamenti sbagliati degli automobilisti possano provocare disastri simili, come è successo lunedì sera.